E allora andiamo subito ad accogliere il senatore Salvini che è qui in studio. Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro ha sentito con attenzione, ho visto le parole di Di Maio. Poi adesso le commentiamo insieme. Però chi a casa si ricordi che è ministro degli esteri in carica, il signore che fa l'ape maia in pizzeria. Cominciamo subito. Siccome ha detto che il governo dovrebbe fare tante cose, lui stasera, noi siamo qua in zona bianca, domenica sera, domani i ragazzi vanno a scuola, mancano troppi insegnanti di sostegno in classe. Lui è ministro, è uno dei ministri più importanti del governo. Uno è davanti alla tele, sta facendo zapping e dice ma il governo dovrebbe intervenire per tagliare le bollette e poi dovremmo intervenire per aumentare le pensioni, gli stipendi. A casa uno può farlo. Se uno suo ospite fa il ministro degli esteri in carica... Lo può fare lui. Insomma, ci sono le guerre in giro per il mondo e noi diamo l'immagine come Italia a Pechino, a Washington, a Berlino e a Mosca che il nostro ministro degli esteri svolazza in pizzeria. Io spero che, anzi, sono convinto che il prossimo governo metterà un diplomatico a fare il ministro degli esteri, metterà un medico a fare il ministro della salute, metterà un insegnante a fare il ministro della scuola perché è giusto riportare le competenze, perché non sempre uno vale uno. Abbiamo cominciato belli scoppiettanti. No, così. Ripressione da spettatore. Perché? Perché Matteo Salvini oggi è particolarmente carico questo bagno di folla a Pontida. Oggi è stata una bellissima domenica perché c'erano decine di migliaia di persone a Pontida, abbiamo fatto l'evento probabilmente, anzi sicuramente, più affollato, più partecipato, più bello, più caldo di tutta la campagna elettorale. Centomila persone da tutta Italia, dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Puglia, il Piemonte, Roma, Firenze, bello. Quindi ragazze, ragazzi, tantissimi, alla faccia di quelli che vanno dicendo che i ragazzi se ne fregano. Abbiamo lanciato una serie di iniziative. La fermo subito. Però aspetto lei. Canon e RAI da tagliare, una di queste iniziative, ha fatto molto rumore. Beh, siccome si parla di Europa, dobbiamo copiare l'Europa. Cosa fa l'Europa? Lo dico a chi è a casa. Noi siamo su Mediaset. Mediaset non chiede il canone a chi è a casa. Campate di pubblicità, fate buone trasmissioni e quindi evidentemente quello che vi pagano le aziende per pubblicità voi reinvestite. Ci sono dieci paesi in Europa che non fanno pagare il canone per la TV e la radio pubblica. È vero che sono solo 90 euro, però quel genio di Renzi li ha messi nella bolletta della luce. Quindi già in un momento drammatico per le bollette della luce e poi l'intervento il governo lo può fare adesso e vi spiego perché, ecco, anche quei 90 euro sulla bolletta della luce per alcune famiglie fanno la differenza. Quindi due ragionamenti. Uno, perché dieci paesi europei non fanno pagare il canone per la televisione pubblica? Due, perché la Rai incassa 700 milioni di euro di pubblicità ma fa pagare lo stesso il canone? Tre, perché Mediaset che fa lo stesso servizio non fa pagare il canone? Ultima riflessione, se io poi devo pagare centinaia di migliaia di euro se non milioni di euro a qualche radical chic che va a fare i comizi in Rai a spese del pubblico contribuente, ebbene, chi sceglie la Lega sceglie che la televisione pubblica possa raccogliere soldi in pubblicità, possa tagliare un po' di sprechi e non gravi più sulla bolletta della luce dei cittadini italiani. Fermiamoci qui perché sennò ci dicono che c'è conflitto di interesse. No, ma non... No, 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 è una battuta. Berlusconi manco lo sapeva così Putin... Ecco, non lo dico perché Putin, Orban, Berlusconi, L'Alepen, io rispondo al popolo italiano. Chiarissimo. Anche quelle... quelle meschinerie chissà se Salvini ha il soldo di Putin, ma come ti permette? Andiamo dopo, andiamo dopo a rispondere... a dare della spia russa allo scuola sante in pizzeria. Adesso va bene tutto. Lo capisco. Poi torneremo anche su Pontida perché voglio farle sentire anche una cosa di letta su Pontida. Però voglio prima farle sentire le parole di Draghi nell'ultima conferenza. E c'è quello che la pensa invece ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni disnascosto con i russi. E vabbè c'è, c'è pure lui. Però c'è tanta gente che non lo fa. Cioè la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuol fare. La democrazia italiana è forte. Non è che si fa battere dai nemici esterni, dai loro pupazzi prezzolati. Insomma, dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia. È chiaro che negli ultimi vent'anni il governo russo e questo risulta da amplissime ricostruzioni internazionali ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, nel settore della stampa, nel settore della politica, in tanti settori in molti paesi europei e negli Stati Uniti. L'hanno fatta arrabbiare queste parole? No, no. Se sa, parli. Cioè, se dice che c'è gente che è corrotta, che è pagata, pupazzo, prezzolato, io sono pagato dagli italiani, sono a processo in un tribunale italiano perché ho difeso i confini italiani da navi straniere, da clandestini stranieri, quindi per me la Russia, la Cina, il Giappone, la Danimarca, la Francia, io rispetto tutti, però chiedo che gli italiani vengano rispettati. Sono parole gravi, però io onestamente in questi giorni sto lavorando, sto incontrando agricoltori, pensionati, noi abbiamo candidato il presidente di federanziani a proposito di pensionati perché c'è un popolo di milioni di persone che meritano che la loro pensione venga rivalutata durante l'anno, non solo una volta all'anno, però sono parole gravi di un presidente del Consiglio. Se sa che qualcuno è corrotto dalle potenze straniere è al soldo o pupazzo di potenze straniere è gravissimo, io ho fatto il ministro degli interni, io ho combattuto mafiosi, camorristi, indranghetisti che mi hanno minacciato, io ho abbattuto le case dei Casamonica, cioè quindi se il presidente del Consiglio sa se qualche politico italiano o giornalista italiano o imprenditore italiano è pagato, è corrotto da potenze straniere però deve andare fino in fondo. Lo dico, presidente Draghi non può andare in conferenza stampa in tutto il mondo perché che figura ci fa l'Italia? Se il presidente del Consiglio dice io so che ci sono politici italiani e giornalisti italiani pagati dall'estero o corrotti Draghi, fai i nomi e cognomi. Fai i nomi e cognomi. Detto questo io sono pagato dagli italiani perché lo stipendio mio e di Di Maio lo pagano i cittadini italiani e cerco di restituirlo in azioni concrete aver fermato la legge Fornero e aver applicato quota 100 e impegnarsi a cancellarla una volta per tutte sta maledetta diabolica legge Fornero e arrivare a quota 41 è qualcosa che io faccio e che ha restituito il diritto alla pensione a centinaia di migliaia di persone che magari sono lì davanti alla tele perché bene la politica non sono chiacchiere la Lega se si impegna a fare una cosa la fa. La politica deve appunto cercare di dare risposta agli italiani per questo lei ha chiesto lo scostamento di bilancio per le bollette però l'Europa propone delle altre ricette e campacavallo attenzione l'aumento delle bollette dipende da tanti fattori la guerra il covid la speculazione l'Europa che ha fatto politiche folli solo elettrico basta col gas basta con i combustibili tutti in giro a piedi bene c'è una serie di fattori uno di questi fattori è la guerra ovviamente l'Europa ha imposto delle sanzioni contro la Russia che noi abbiamo approvato perché pur di fermare la guerra noi le usiamo tutte le maniere possibili queste sanzioni però dopo sette mesi più che fermare la Russia e mettere in ginocchio Putin i generali i colonnelli e i militari che hanno scatenato questa maledetta e orrenda guerra le stanno pagando gli italiani i baristi i panettieri i parrucchieri i taxisti i pensionati quindi l'Europa che ha causato in parte l'aumento delle bollette dovrebbe proteggere gli italiani ma l'Europa ci dice quando e come accendere i nostri elettrodomesti ma se la risposta dell'Europa è lavatevi un po' di meno fatevi meno docce usate di meno l'alatrice usate di meno la stoviglie e usate meno l'aria condizionata allora se l'Europa fa così perché qualcuno ha convenienza che non cambi nulla sbagliato si chiama Unione Europea gli italiani pagano l'Unione Europea e quando gli italiani hanno bisogno sarebbe giusto che l'Unione Europea li proteggesse però lei mi dice e se l'Europa non fa niente fino a dicembre noi che facciamo ci troviamo qua a zona bianca e ci lamentiamo no perché gli altri governi europei come c'è il governo italiano in carica hanno messo tutti i soldi necessari Francia Germania Spagna Gran Bretagna hanno messo decine di miliardi di euro a debito si a debito domanda un padre di famiglia che c'è a casa non è mai bello fare debito ma se tuo figlio viene a casa stasera e dice papà ho fame tu cosa gli dici no guarda non posso fare debito tienti la fame per tre giorni e poi il panino te lo compro fra tre giorni tuo figlio ti prende per uno scemo non per un buon gestore del patrimonio quindi è meglio mettere 30 miliardi adesso perché c'è gente davanti al televisore che il bar lo chiude fra dieci giorni che la fabbrica la chiude fra dieci giorni meglio mettere 30 miliardi adesso che non metterne 100 fra tre mesi per pagare un milione di disoccupati questa è la proposta della Lega perché altri non ci sostengono non lo so restiamo in Europa perché non avete votato la risoluzione contro Orban perché io sono orgoglioso del mio paese dalla democrazia del mio paese rispetto gli altri paesi in Francia hanno appena votato hanno rieletto Macron io ti favo per Marine Le Pen però in democrazia se uno prende i voti vince in Svezia hanno appena votato e hanno mandato a casa la sinistra in Ungheria hanno appena votato e hanno rieletto Orban e quindi io chi sono per dire hanno sbagliato gli svedesi i polacchi i francesi gli ungheresi negli Stati Uniti voteranno in autunno se mandano a casa il partito di Biden se fanno vincere il partito repubblicano io ne sono contento però scelgono gli americani ecco io vorrei lo stesso rispetto per gli italiani visto che nei giornali in questi giorni dicono ma gli italiani voteranno sotto l'influenza russa americana tedesca cinese no io chiedo il voto degli italiani per cancellare la legge Fornero per tornare al nucleare perché sulle bollette in prospettiva noi non possiamo essere l'unico paese dal mondo senza energia nucleare che è la più pulita è la più sicura è la più economica quindi io chiedo il voto per questo per cancellare il numero chiuso a medicina mancano i medici mancano gli infermieri e noi abbiamo il test d'ingresso e lasciamo a casa 50.000 ragazzi che vorrebbero fare medicina in Francia tutti accedono al primo anno e la selezione sa come avviene non col quiz io ho visto il quiz per medicina ma neanche un premio Nobel li va a fortuna 60 domande 5 crocette X sembra la ruota della fortuna in Francia tutti accedono al primo anno senza fare i quiz e alla fine del primo anno in base ai voti i più bravi i più meritevoli i più appassionati vanno avanti ecco riportiamo la scelta è fra Di Maio e Salvini Di Maio è un'altra cosa sgradevole Di Maio e Conte che dicono Renzi non venga senza scorta a Palermo e quell'altro la Meloni non venga a Napoli ma che minacce ma che minacce sono ma che roba è ma che modo di far politica ecco io mi rifiuto di litigare di questionare se uno sceglie la Lega sceglie il taglio della legge Fornero sceglie la flat tax al 15% per le partite IVA anche per i pensionati e i lavoratori poi non offriamo miracoli però io non mi permetterai mai di dire a Di Maio stai attento a venire a Milano io domani sono a Crotone alle 5 e a Bari alle 21 se Di Maio vuole venire o Renzi vuole venire o Conte vuole venire è il benvenuto assolutamente non mi piace questo tono di certa sinistra minaccioso Salvini fascista russo razzista ma dai posso farle sentire Letta a proposito del raduno di Pontida e beh lei mi dà gli assist e io vado segno Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria noi non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come Salvini oggi ha voluto di fare ha voluto proporre di fare l'idea che l'Italia diventi oggi un paese come l'Ungheria di Orban modello sul quale si batte Salvini è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare che gli rispondiamo ma perché Letta non parla di pensioni di tasse di giovani e di lavoro è un mese che ha l'angoscia di Salvini e la Russia e l'Ungheria e la Polonia e l'America l'Italia è uno dei più grandi paesi al mondo dei più bei paesi al mondo con un po' di burocrazia in meno con un po' di tasse in meno un po' di clandestini in meno il mio problema non sono gli ungheresi il mio problema sono i 60.000 che sono sbarcati in questi mesi a Lampedusa ma entrano da Ventimiglia dal Brenner o da Trieste ecco Letta ad esempio io mi confronterei volentieri con Letta perché ha detto una roba incredibile Letta vorrebbe estendere il reddito in cittadinanza non solo a chi già lo prende e qua ci sono un po' di furbetti che rifiutano di andare a lavorare a cui bisognerebbe toglierlo ma vorrebbe estenderlo anche agli immigrati arrivati da poco tempo ora per uno che rappresenta il partito che una volta era quello degli operai delle fabbriche degli insegnanti dei precari degli artigiani e degli agricoltori e adesso si occupa di Ungheria di insultare Salvini di cercare spie russe e lo Jussoli il DDL Zan e la droga libera ecco chi sceglie la Lega sceglie la lotta la droga sempre e comunque la cittadinanza non si regala ma si sceglie il diciottesimo anno di età se io devo dire che in Ungheria ad esempio però il sistema fiscale funziona meglio di quello italiano sì perché la deprecata Ungheria che non è il mio modello il mio modello è l'Italia siamo la seconda potenza industriale d'Europa non ho bisogno di copiare l'Ungheria la Bulgaria o la Francia sono italiano e ne sono orgoglioso però in Ungheria le aziende pagano meno del 10% di tasse e aprono tante aziende italiane purtroppo ogni settimana in Ungheria quindi Letta invece di insultare cercare fascisti spie russe ungheresi uniamoci per aiutare gli italiani a pagare le bollette se viene in questo studio lo faccio molto volentino allora lo stiamo invitando dall'inizio della campagna elettorale per ora non viene Letta sì speriamo di almeno fino a venerdì però c'è ancora una settimana sì sì ecco io glielo dico Di Maio è un caro ragazzo e a proposito Di Maio Di Maio vuole fare il confronto è mai invitato in pizzeria a fare il volo dell'angelo per carità ci andrò dopo le elezioni però siccome la partita non è con Di Maio che con tutto il rispetto lei gliel'ha chiesto non fa il 3% neanche neanche se vince al Super però visto che la partita fra PD e Lega invece è una partita fra due forze che si giocano il governo ovviamente anche se la Lega col centrodestra è nettamente avanti però io aspetto sempre la fine della partita se Letta volesse venire però non a confrontarsi di Russia o di Ungheria pensioni lavoro tasse noi venerdì abbiamo la chiusura della campagna elettorale in diretta qui nella zona bianca vediamo se compiniamo Letta accetta io disdico quello che ho detto e vengo da voi parliamo di cose vostre centrodestra prego perché Meloni dice che viene più attaccata da lei che dagli avversari no perché sulle bollette io veramente quando ogni giorno mi mandano sul telefonino su whatsapp sulle mail ma io esco per strada ripeto e mi Salvini questa è la mia bolletta come faccio ci sono negozi che stanno chiudendo panifici storici che stanno chiudendo fabbriche ma anche grandi fabbriche a Piacenza in Calabria a Brescia che stanno lasciando in cassa integrazione migliaia di operai perché con questo costo della luce non ce la fanno a guadagnare e quindi io dico interveniamo adesso Giorgia su questo è più prudente come lo stesso Draghi però io ho il timore che questa prudenza che può anche avere un senso ma in un momento così catastrofico in cui molte persone che sono a casa non hanno tre mesi da aspettare perché adesso il problema è che sono arrivate le bollette pesanti di luglio e le bollette pesanti di agosto ma quelle di settembre e di ottobre non perché è colpa di Salvini ma per la situazione internazionale saranno ancora più pesanti ma le dice fate presto però ad esempio un albergo che comunque a luglio e agosto aveva dei clienti e bene o male ce l'ha fatta a settembre e ottobre tira giù la sala cinesca ci sono alberghi in Toscana che non prendono più prenotazioni dal primo novembre perché hanno più convenienza a chiudere e a lasciare a casa i dipendenti che a lavorare quindi la mia riflessione è possiamo aspettare le elezioni quindi il nuovo governo che ci sarà a ottobre a novembre per un intervento no perché da qui a novembre noi rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro quindi io spero non è una questione politica la bolletta quindi io spero che Giorgia che Silvio che Enrico Letta che Draghi tutti quanti non per dare ragioni a Salvini però capiscano l'emergenza che l'Italia sta vivendo e mettano sul tavolo questi benedetti 30 miliardi e poi sul resto amici come prima col centrodestra con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni c'è un programma comune c'è la volontà di governare insieme per 5 anni proveranno a dividerci non ci riusciranno io se do una parola la mantengo perché per me la parola vale quindi il centrodestra ha fatto una scelta di unità bella giusta coerente quindi se gli italiani ci sceglieranno domenica prossima per 5 anni a votare non si va più cambi di casacca non ce ne sono più cambi di partito di presidenti del consiglio non ci sono più e ne riparliamo fra 5 anni ha citato Berlusconi poco fa lo ha ribadito anche qui nella zona bianca se andiamo al governo rimaniamo europeisti atlantisti la collocazione internazionale con i paesi liberi democratici e occidentali non cambia e non cambierà mai ovviamente per quello che mi riguarda bisogna intendersi su cosa ci aspettiamo dall'Europa cioè io dall'Europa mi aspetto la protezione della sicurezza dei confini è la lotta al terrorismo l'Europa le faccio un esempio che vuole portarci in tavola le cavallette che sta ipotizzando il latte sintetico in laboratorio non munto dalle vacche che sta pensando al Nutri-Score cos'è il Nutri-Score in pausa pubblicitaria magari qualcuno se lo può cliccare su Google è un sistema di etichette inventato da Bruxelles su input delle multinazionali e di alcune grandi realtà finanziarie che ti mette l'etichetta sulle robe che vai a comprare a fare la spesa rossa fa male gialla così così verde fa bene ebbene fra le cose che farebbero male secondo questi algoritmi demenziali c'è l'olio d'oliva il parmigiano reggiano il prosciutto crudo la follia c'è la dieta mediterranea e le cose che fanno bene ci sono le patatine surgelate la coca zero le alette di pollo congelate ora io all'Europa chiedo di proteggere i miei lavoratori mettendo un tetto alle bollette se l'Europa vuole portare in tavola di mio figlio il latte finto la carne finta il formaggio finto o le cavallette se le mangino loro le cavallette io difendo l'agricoltura e la pesca i frutti della nostra terra e del nostro mare senatore abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione un pensiero alle marche un pensiero alle marche ce ne siamo occupati nella prima parte oggi a Pontida c'era una marea di gente ovviamente non c'erano tanti marchigiani molti sindaci molti amministratori locali anzi oggi a Pontida abbiamo raccolto un po' di denari per comprare anche i mobili e gli elettrodomestici perché poi la vita reale significa che chi ha perso una casa ha bisogno del frigo ha bisogno della cucina ha bisogno del bagno quindi ogni ora stiamo in aggiornamento per cercare di aiutare non con le chiacchiere ma con i fatti quindi un pensiero particolare a chi magari in questo momento o in questa serata non ci guarda non ci sta vedendo da Ancona da Senigallia o da Pesaro ci sono ancora quei due dispersi per chi crede per chi ha fede una preghiera in un miracolo male non fa però un pensiero particolare ai marchigiani lo rilanciamo noi molto volentieri nella zona bianca grazie senatore Salvini per essere stato con noi magari ci vediamo in qualche modo venerdì nella puntata che dedichiamo alla chiusura della campagna elettorale se Letta accetta una volta tanto un confronto sul futuro dell'Italia sulle pensioni sulle tasse sulla scuola sul lavoro io ci sono perfetto grazie ancora noi dobbiamo fermarci torneremo dopo la pubblicità e parleremo della regina il lungo addio domani funerali grazie a tutti